Il Sunshine Sixty è un grattacello di 240 metri. Al suo interno troviamo un acquario, un planetario e la Nanko Nanjan Town. Questo è il Natale. Il Sì è costoso. Il San San Marco Scurito è un bambino. All'interno del Nanjantown ci sono attrazioni come la Casa dei Fantasmi e le bancarelle tipiche giapponesi come il Tirassegno. Al suo interno ci sono ristoranti di diverse tipologie come ristoranti specializzati nei ghiozza, i radioli cinesi o anche gelaterie con 100 gusti. All'interno del Nanjantown ci sono attraverso un'interno del Nanjantown. All'interno del Nanjantown ci sono attraverso un'interno del Nanjantown. Nanjantown ci sono attraverso un'interno del Nanjantown. All'interno del Nanjantown ci sono attraverso un'interno del Nanjantown. Nanjantown ci sono attraverso un'interno del Nanjantown ci sono attraverso un'interno del Nanjantown. Grazie a tutti. E ora entreremo nella zona dedicata a Dragon Ball Z. Stiamo scendendo al Palazzo del Supremo. 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 Sto contengiato. Dai che si arriva in batteria. Al suo interno ci sono ristoranti di diverse tipologie. Come ristoranti specifici. Stiamo scendendo al Palazzo del Supremo. 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 Stiamo scendendo al Palazzo del Supremo.